Negozi aperti fino alle 22.30 massimo, bar e ristoranti fino a mezzanotte e soprattutto obbligo della presenza di un assistente alla clientela, un vero e proprio vigilantes nel locale. Proroga fino a fine anno e allarga l'ordinanza antidegrado di ottobre il comune di Patova, che dopo la stazione La Prima Arcella interviene anche su via Nibale da Bassano e nel quadrilatero di via Bernina. Dove ci sono assembramenti di persone, non c'è un ordine pubblico e i titolari di queste attività non riescono con il proprio assistente alla clientela a tenere sotto controllo la situazione, si può decidere di abbassare l'orario di queste attività per responsabilizzare loro. Figura chiave quella dell'assistente alla clientela che può anche essere il titolare del locale ma che deve garantire rispetto delle regole e decoro. Tenere l'ordine davanti al locale, evitare che ci sia vocio che può disturbare anche i residenti oltre l'orario di chiusura, segnalare qualsiasi tipo di disordine, di situazione spiacevole alle forze dell'ordine. L'ordinanza è firmata, adesso i cittadini attendono che sia applicata attraverso puntuali controlli. La nostra attenzione su questo tema è massima, non vogliamo desertificare come qualcuno ha tentato di fare prima di noi, mettiamo degli orari che sono umani ma chiediamo rispetto delle regole e controlleremo che ci sia rispetto delle regole.